Ciao, mi chiamo Maria Paula Davila, sono messicana di Saltillo, ma studio a Monterrey. Ho 18 anni, il mio compleanno è il 11 settembre. Nella mia famiglia siamo sei, i miei genitori un fratello e due sorelle. Studio giurisprudenza e finanza al TEC di Monterrey. Sono una ragazza allegra e un po' tranquilla. Nel tempo libero mi piace andare alla lezione di Pilates e mi piace uscire con gli amici. Non mi piace molto la cucina italiana, ma mi piace molto quella mexicana. Inoltre, mi piace ascoltare musica leggera e vedere un programma di TV nel tempo libero. Non mi piace andare al cinema perché mi adormento e il fine settimana vado sempre a Saltillo a casa mia.